Cari amici, oggi abbiamo una notizia senz'altro positiva. Ve l'avevo annunciata qualche giorno fa, oggi ve la comunico. In data 25 settembre il mio avvocato si è recato presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano alla Cancelleria e ha depositato un sollecito, perché voi sapete che l'istanza è stata depositata il 6 giugno scorso, quindi per avere più che altro un riscontro in merito a certe questioni legali abbiamo depositato un rispettoso sollecito, che vi leggo all'illustrissimo Presidente, Dottor Giuseppe Vignatone, giudice del Tribunale di prima istanza della Città del Vaticano e all'illustrissimo Presidente aggiunto, Professor Venerando Marano. Con il rispetto dovuto all'illustre ufficio che ella ricopre mi permetto di rivolgermi a questo Tribunale in qualità di parte interessata nella pratica depositata presso il vostro illustre Tribunale in data 6 giugno 2024, relativa a istanza per il riconoscimento della nullità dell'abdicazione di Papa Benedetto XVI. A distanza di tempo dalla presentazione del suddetto libello desidero cortesemente sollecitare notizie circa lo stato della pratica. Sono consapevole della complessità dei procedimenti e del carico di lavoro a cui questo Tribunale è sottoposto. Tuttavia la mia richiesta è motivata dall'importanza di garantire una risoluzione tempestiva delle questioni sollevate nell'interesse esclusivo di Santa Romana Chiesa e dei fedeli. Pertanto sarebbe gradito ricevere un aggiornamento sullo stato della pratica, sulle eventuali udienze programmate o su altri sviluppi significativi. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva che potrebbe rendersi necessaria. Ringraziandolo anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità porgo i miei più distinti saluti. Andrea Cionci. Ora la cosa interessante è che il mio avvocato ha riportato indietro una copia del sollecito con il timbro della cancelleria del Tribunale. La data 25 settembre 2024 e un numero di protocollo. Ecco noi abbiamo censurato il numero tranne l'ultima cifra per una questione di discrezione e di rispetto verso il Tribunale. Comunque avete insomma contezza del fatto che l'istanza è stata protocollata. Quindi che cosa possiamo dire con certezza? Che non è stata gettata nel cestino. Non è stata buttata via come se fosse un romanzetto fantareligioso, un romanzetto a Laden Brown. Ma verosimilmente è al vaglio dei magistrati, è allo studio e sicuramente ci dovrà essere una risposta ufficiale. Nella migliore delle ipotesi, cosa che noi ci auguriamo, sarà varato un procedimento, sarà aperto un processo. Non avevamo dubbi circa la serietà del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Io credo che una questione del genere debba essere sicuramente studiata, vagliata nelle opportune sedi per garanzia di tutti, persino per garanzia di Francesco. Perché sono undici anni che si parla della sua legittimità o illegittimità in relazione alla declarazione di Papa Benedetto, dopo undici anni, io credo che sia uno dei diritti e dei doveri dei fedeli chiedere un procedimento canonico che faccia luce sulla questione. Canonico e penale perché nell'istanza sono state depositate tante cose anche di rilievo penale. Vi ricordo come è strutturata, sono tre sezioni. La prima riguarda l'inesistenza della declaratio come atto canonico di abdicazione. La seconda prende in esame la supposizione per cui questa declaratio possa essere considerata un atto canonico e si evidenzia la sua nullità per errore sostanziale. Manca la rinuncia al munus, cosa confermata da Professor Radaelli, da Piganò e dagli altri teorici dell'errore sostanziale. La terza sezione spiega che cosa ha fatto Papa Benedetto. Perché la declaratio inesistente e se la vogliamo considerare esistente è nulla invalida? Perché Papa Benedetto ha fatto un'altra cosa, ha annunciato la sua sede impedita. Noi siamo consapevoli che i magistrati al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano esamineranno con attenzione questo materiale e procederanno a fare chiarezza nell'interesse esclusivo di Santa Romana Chiesa e dei fedeli, esattamente come chiedevamo. Un grazie al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, grazie a voi per il sostegno. Un caro saluto a tutti.